La presenza, la capacità di presenza, che è una caratteristica che dobbiamo sviluppare quando si parla di lavoro su di sé, si lavora su questo, il lavoro su di sé è recuperare e amplificare la nostra capacità di presenza. È quello che Gurdjieff definiva ricordo di sé, quindi per arrivare a ricordarci di noi dobbiamo sviluppare la nostra capacità di presenza, dobbiamo lavorare su di noi per cancellare quelle disarmonie che in Ho'oponopono appunto sono memorie che ci impediscono di vedere chi siamo. Questo è il lavoro che dobbiamo fare. La cosa è molto semplice, non c'è da fare niente di complicato. Tu dici mi sono sempre fatta travolgere dagli eventi della quotidianità perché avevo mille cose da risolvere, anche di sopravvivenza. E questo è assolutamente credibile e assolutamente ancora una volta umano e normale. La cosa che nessuno ci ha mai detto, che invece dovrebbero insegnarci all'asilo, è che questo non esclude quello. Il fatto di occuparci della nostra quotidianità non ci preclude in nessun modo la possibilità di lavorare sull'espansione della nostra capacità spirituale. Perché per farlo non serve dedicarci tempo, non serve dedicarci energie, serve semplicemente esserci ed esserci finché facciamo tutto il resto, finché siamo funzionali a gestire tutto quanto il resto. Quindi quando io in Ho'Ponopono dico che uno degli strumenti più potenti per recuperare la nostra armonia è la ricerca del bello nel brutto, discussione che ho avuto in chat proprio oggi con una che mi ha detto se sono sciroccata a dire queste cose che basta guardarci intorno per vedere quante bruttura c'è, per l'amor di Dio. È vero, da un punto di vista puramente umano e razionale, quando guardiamo fuori vediamo bruttura. Però se noi stiamo facendo un certo tipo di percorso, un certo tipo di lavoro, se noi sappiamo, e per saperlo dobbiamo sentirlo, che quello che accade nella nostra vita e nel mondo è amore in espansione, regolato da un meccanismo d'amore in espansione, perché tutto quello che è è sempre la stessa energia, che non vuol dire che tutto sia perfetto così com'è e quindi deve restare così com'è, ma perfetto significa che è funzionale all'espansione dell'amore. Naturalmente questa funzionalità è efficace nel momento in cui noi cogliamo l'opportunità che le cose che succedono ci danno. Se noi invece restiamo lì a guardare le cose, a fare home seduti sul divano o a non fare niente, non stiamo cogliendo l'opportunità che la vita ci propone, ma siccome la vita è perfetta in questo senso, se noi non cogliamo l'opportunità ce la riproporrà, e ce la riproporrà, e ce la riproporrà, e ce la riproporrà, e come ce la riproporrà? Procurandoci sempre maggiori difficoltà. Perché se noi non rispondiamo allo stimolo della gioia, la vita sarà sempre più invasiva per non consentirci di mettere la testa sotto la sabbia. E più grandi sono le nostre potenzialità espansive, più le difficoltà saranno importanti. È quella che si definisce la notte buia dell'anima. Più noi siamo potenti e più non rispondiamo allo stimolo della gioia, più la tenebra sarà buia. Sì, proprio perché abbiamo delle grandi potenzialità. Potenzialità, però, quando la tenebra si imbuisce, scusa il lessico, quando la tenebra diventa buia, è perché noi non abbiamo consentito alle nostre potenzialità di realizzarsi, di venire fuori. E quindi la vita, in qualche modo, ci costringe a tirarle fuori. In alchimia si chiama piombo da trasformare in oro. In oporopono si chiamano i problemi sono opportunità. Il concetto è lo stesso, identico. Quando noi, nella nostra vita, vediamo delle difficoltà, è fondamentale riconoscerle, riconoscerne la bellezza, bellezza intesa proprio come potenzialità, come funzionalità, e lavorare per trasmutarle. Quindi, qual è lo strumento potente che noi abbiamo per trasmutare il piombo in oro, diciamo così? Gurdjieff parlava di emozioni superiori, quindi gioia, quindi condivisione, quindi altruismo, quindi riconoscimento della bellezza, quindi felicità. Tutte quelle sensazioni che ci fanno stare bene vanno coltivate al 1000% perché sono il carburante trasmutativo. Allora, quando noi ci troviamo in situazioni in cui stiamo male, in cui quello che vediamo lì fuori non ci piace, se siamo in un percorso evolutivo abbiamo la capacità di lasciare da parte il giudizio che non vuol dire non vedere che quella cosa non mi piace, ma non stabilire che io sono migliore di quella situazione, di quella persona perché quello sta facendo una cosa che non mi piace. È il confronto che genera il giudizio. Quando io mi sento migliore, sto giudicando. Quando io dico non mi piace, non lo farei, lo voglio cambiare, non sto giudicando. Sto usando la mia capacità di discernimento, che è indispensabile e sacro santo. Quando io dico io sono migliore, lì sto giudicando. E quando giudico sto espandendo la disfunzionalità della situazione. Quando invece io vedo quello che sta succedendo, mi dissocio e mi distacco emotivamente, non lo considero peggiore di me, lo considero semplicemente una cosa che non riguarda il mio percorso. E continuo sul mio percorso, anche modificando quello che c'è da modificare, perché il mio percorso sia efficace alla massima potenza, sia vibrazionalmente alto, io sto lavorando su di me e sto gettando i semi per la migliore delle realtà mie. Perché poi la realtà che mi interessa è quella che sperimento io. È ovvio che all'interno della mia realtà ci saranno tutte le persone che fanno parte della mia realtà. È per questo che quando si dice se cambi tu, cambia tutto. Perché quello che tu vedi è il riflesso di come sei. Quando tu sei gioioso, anche se vedi lì fuori qualcosa che non ti piace, ne ricavi la funzionalità e provi gioia, provi felicità, provi serenità, provi benessere, stai bene. Quindi quando si dice che Ho'oponopono non cambia le cose lì fuori, si dice proprio questo che ti permette di vederle in modo diverso. È ovvio che nel momento in cui tu le vedi in modo diverso, cambiano. Perché cambia la vibrazione che tu emani. Quindi la vita ti risponde con una vibrazione diversa.